Brani registrati studio accompagnati da musicisti professionisti che saranno giudicati da una commissione d'eccezione il 4 novembre alle 21.30 all'Irish Café di Pianola. Un concorso, l'appuntamento Voices, in cui verrà assegnato il premio Colonna Sonora messo in palio dalla Scuola di Musica e Studio di Registrazione Colonna Sonora Music Farm di Avezzano. Sono diverse le voci in gara che partecipano. Lucia Sciarretta, Ilaria Alexandris, Sonia Bartolini, Mario Del Vecchio, Enrico Ferrauto, Francesco Torge, Beatrice De Santis, Luisa Lepidi, Eva Damiani e Sabrina Vaccarelli. La commissione giudicatrice è composta dal maestro Mario Marchionni, direttore della Scuola di Musica Colonna Sonora di Avezzano, Piero Cerolini, presidente dell'Associazione Culturale Laboratorio Dietro le Quinte e editore del progetto Vale, dedicato a giovani musicisti emergenti e dall'attrice Francesca Del Grosso. Appuntamento alle 21.30 all'Irish Café di Pianola per una serata entusiasmante con giovani talenti.